ho notato una cosa aspetta con ho notato una cosa che camomilla e il lascia e va sotto stanno perdendo questa è la spazzola di voi e ora cominciamo a vedi camomilla come si sta buona buona gohan va bene io comunque ora cosa faccio prendo la tua spazzola vedi e tolgo i piedi a camomilla va bene vogliamo camomilla bene bene che camomilla sta perdendo i piedi giriamo la camomilla che bella camomilla gohan vedi camomilla come brava e buona guarda che cosa sto facendo sto togliendo i piedi quelli in eccesso a camomilla vuoi fare tu dai vieni qua vieni vieni qua vieni gohan e vabbè tolgo la spazio viene a prendere camomilla vuoi camomilla e dammi il bassotto dammi il bassotto io ti do camomilla sei tu mi dà il bassotto allora se tu mi dà il bassotto io ti do camomilla va bene Grazie.